salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono qui oggi per presentarvi l'ennesimo capolavoro del nostro caro ago modding sono qui di fronte al questo signor aratro all'aratro per eccellenza sono di fronte al moro raptor l'esavomere che è il fratello maggiore del trivomere che vi avevo presentato tempo fa ho voluto ovviamente darci un occhio ho voluto come sempre elogiare il lavoro di ago perché veramente come sempre siamo di fronte a mod qualitativamente molto molto alte poi meritano davvero un occhio di riguardo oltre che alla cura come sempre maniacale dei dettagli del modello delle texture di tutto quello che riguarda l'aspetto visivo della mod quest'oggi vi dico anche che diciamo ci sarà una nuova impostazione d'ora in poi nelle nuove mod di ago nelle nuove pubblicazioni che praticamente consiste che insieme lui insieme a dural che è il creatore della mod realistica hanno diciamo creato una sottospecie di script che va ad agire in questo modo praticamente non ci saranno più versioni mr delle mod versioni normali ma ci sarà un'unica versione che conterrà uno script molto molto particolare particolare infine funziona molto semplice ma è diciamo vi aiuta aiuta anche il mod era non fare troppe versioni perché appunto riconosce automaticamente la presenza o non della mod realistic in partita cosa significa significa che praticamente voi quando mettete dentro la mod nella cartella quando selezionate la mod realistic per averla in gioco automaticamente la mod si setta in mr se voi non selezionate la mod realistic la mod diciamo rimane e la potete utilizzare in modo normale quindi di ripeto non ci saranno più due versioni normali mr ma ci sarà un'unica versione che si adatterà a diciamo il vostro tipo di gioco se avete la mr si setterà in mr se non ce l'avete si setterà diciamo in modo normale quindi questo qua verrà per adesso credo aggiornerà anche il trivomere prossimamente e le prossime pubblicazioni dei mezzi eccetera saranno tutti strutturati in questa maniera non prendete paura di tutto il discorso che vi ho fatto perché per voi non cambia nulla insomma scaricate una versione e automaticamente avete già la versione mr o non ottimo questo è quanto proseguo col discorso mod beh soffermiamoci un attimino qui sui dettagli veramente rinnovo sempre i miei personali complimenti ago al tuo lavoro perché sono una roba mostruosa guardate anche i dettagli qui delle scritte dei tubi guardate i dettagli delle texture guardate che razza di di lavori cioè mamma mia mamma mia mamma mia veramente avete già visto i trivomeri questi differenziano diciamo di poco ovviamente hanno tre bomber in più ma comunque oltre ad avere ovviamente il sistema per il trasporto trasporto stradale diciamo che cambiano di poco come sempre qui vi ho già preparato un po le personalizzazioni come ben vedete c'è la possibilità della scelta dei bomberi quindi a steche o ad alla piena e ovviamente la possibilità della colorazione basta per resto diciamo non c'è altro nel senso che appunto possibilità sempre entro e fuori solco ovviamente tutta la questione idraulica eccetera os tutto a posto quindi ovviamente si aggancia tutto e basta io prima di andarli a provare tutto quanto farvi vedere animazioni eccetera andiamo sullo shop vediamo appunto nella categoria rate li troviamo qui ci sono le solite quattro versione quattro versioni il lexa 14a il 18a e il 20a queste differenziano ovviamente dal peso e dalla potenza richiesta mi raccomando ragazzi con se lo giocate in mr questi sono aratri veramente veramente pesanti sono duri da tirare sono molto faticosi quindi sono per alte potenze io adesso lo proverò sotto il quadrac il case perché veramente io l'ho provato col 39 qui di ago ma fate una fatica bestia e se siete in piano ancora ancora riuscite ad avanzare ma appena trovate un po di salita eccetera non vi muovete più quindi questi se li usate in mr metteteci sotto cavallerie pesanti anche trattori pesanti grossi perché sennò non fate veramente niente di niente comunque appunto questo sì questi qui hanno tutti quanti la stessa larghezza quindi 4 metri 9 di lavoro il 14a pesa 2.900 kg questo ne pesa 18a pesa 3.500 e il 20a ne pesa 3.900 come sempre doppio clic possibilità delle personalizzazioni la prima voce da il colore che abbiamo la tavolossa dei colori disponibili e infine l'ultima voce design che si passa appunto dalla versione standard al versoio a strisce basta per resto diciamo non c'è altro di questione personalizzazione perfetto teniamo un attimo fuori ma insomma i dettagli qui li avete già ben visti guardate sempre i vomeri che texture qui vedremo poi il sistema del del trasporto ok perfetto io direi di agganciare farvi vedere un po' la movimentazione della ratron tutte le animazioni eccetera quindi andrei a prendere il fend che così mi si attaccano che tutti i tubi vi faccio vedere tutto quanto spero ovviamente per voi che prima o poi ago pubblicherà la serie 900 e soprattutto l'800 perché ragazzi miei mamma santa ok saliamo su siamo preso agganciamo il nero eccoci qua guardate anche che bella copiata che fa il fend nero con tutto l'aratro nero wow ok un attimo mi giro così vi faccio vedere bene i tubi eccoci qua eccoci qua diamo un'occhiata tutti i collegamenti posteriori guardate che roba tutto agganciato a posto mi mostro l'animazione della chiusura quindi il sistema di trasporto stradale ecco qua qua vedete le ruote eccoci qua eccoci qua questo è il nostro sistema di trasporto stradale vedete che hanno messo anche ok sono stati compaiono i cartelli qui di diciamo di ingombro ok facciamo vi faccio vedere l'apertura da qui ovviamente c'è anche la solita seconda camera che punta l'aratro vedete un'occhiata qui che è tutto dinamico tutto il fascio dei tubi qui e anche questi qua agganciati guardate wow wow e wow ottimo allora faccio l'ultima cioè l'ultima scusate l'unica possibilità di interazione quindi entro e fuori solco tasto z ecco qui qui siamo in fuori solco questo è dentro solco guardate un po' la traslazione tutto dinamico anche sotto qui vediamo se riesco a farvelo vedere ecco qua tutto perfetto movimenti perfetti nessuna parte che va in collision ok ottimo io lascio qua un attimo il fend ragazzi che dobbiamo andare a prendere il quad track andiamo ora con quello attenzione che ovviamente lo potete sganciare solamente quando è in posizione diciamo di lavoro non si può sganciare mentre è in posizione di trasporto adesso vi mostro che diciamo vi impedirà di farlo ovviamente vedete che il piedini di stazionamento è impossibile diciamo da aprire quando è in questa posizione vedete che non vi dà la possibilità di sganciare quindi mi raccomando tenete a mente questa cosa ok perfetto vedete che in questo caso adesso non possiamo neanche qua ok perfetto avete visto che l'abbiamo sganciato ottimo lasciamo qui il fend andiamo a prendere il nostro case andiamo a fare una bella aratura pesante secondo il silenzio ragazzi start up del case mamma mia agganciamo mettiamo in posizione di trasporto intanto faccio ora adesso vedrete ragazzi che fatica fa il case a tirarlo e questo è un 540 ora cerchiamo di uscire da qui senza far troppi malanni che rischio mamma bene andiamo comunque non so voi non so voi ma io senza MR e senza Siso non gioco più a farming veramente bene qua abbiamo una bella tirata lunga mettiamoci comodi abbastanza dritti ecco apriamo perfetto giriamo mettiamoci fuori il solco e via da che partiamo guardate il case che fatica fa non arriva neanche a velocità di crociera siamo a 10 km orari massimo consumo diciamo sforzo motore 110 litri ora e giù guardate che fa veramente fatica comunque come sempre parti con tutto a posto ah ragazzi scusate cerco di andare un attimo dritto non è facile che spettacolo mamma mia mamma mia poi sul case così sto aratro qua fa la sua porca figura è fantastico 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 sentite il fischio della turbina del case ok sto zitto un po' è così ascoltate il sound alzate pure un po' un po' Grazie. Grazie. Guardate qua il Dirt che inizia. E senza il GPS non è facile andare dritti ragazzi, sto cercando di fare del mio meglio. Guardate che qui la camera vi dà questa prospettiva nel lavoro. Vi dico la sincera verità ragazzi che io non ho mai usato la GPS, mai, mai, mai. A me piace il gioco duro, piace il lavoro di occhio, però dai tutto sommato non sto andando tanto schembo, un pochino, ma insomma è accettabile. Qui sono sulla Ensam Gebirge, la mappa se non l'avete già riconosciuta. E' la morte sua sto mezzo per sto aratro, è la morte sua, guardate che figata. Ok, io sono arrivato anche in fondo, mi dispiace ragazzi lasciarvi perché io come sapete starei qua ad andare avanti indietro all'infinito, ma purtroppo sono in presentazione e devo star dentro un po' a tempi umani. Ottimo, dai, torniamo di là che io vi saluto. Fermiamoci un secondino che miriamo un po' il Dirt. Molto bello. Guardate che coppia. Eh, ci sta, ci sta. Ok, torniamo di là. Ora, ma ecco, non verrebbe chiuderla l'altro qua, prima che tiro giù recinzione e tutto. Meglio va che non è il caso. Cioè ragazzi, questa non è una mod, questa è un'opera d'arte. Un'opera d'arte. Ora vediamo se riesco a rientrare più che altro perché sembra largo il passaggio, ma farlo con uno snodato e un Mesa Vomere non è che sia proprio il massimo. Dai che gli ha famo, dai che gli ha famo. Yes. Comunque la Moro fa di serie anche un arato più grande che è l'Epta, che è quello da 7 Vomere. Ok. Mi metto più vicino. Perfetto. Tegniamo il nostro Quattrack. Bene ragazzi, io a questo punto termino qui la presentazione. Spero vivamente vi sia piaciuto l'aratro. Come bene avete visto comunque è un po' diciamo particolare, che non è versatile come un Trivomere. È molto impegnativo. Soprattutto usandolo in MR. È veramente tosto perché avete visto cosa bisogna metterci davanti. Però veramente complimenti sempre per la mod, per lo sviluppo, per il modello, per le texture, per la bellezza di questa mod che veramente merita. merita sempre un download e ovviamente una presentazione. Basta ragazzi, tenete a mente il discorso che ho fatto all'inizio della questione della mod che switch automaticamente in MR se avete l'MR o rimane normale se non avete l'MR inserita. Quindi veramente grazie anche per questa cosa qui. Quindi ci eviti versioni, sopra versioni, MR non è un MR, una versione e siamo a posto. Ragazzi io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto ovviamente al link in descrizione e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!